Non è più accettabile vedere auto parcheggiate nei posti riservati ai disabili e alle ambulanze nell'anello esterno dell'ospedale. Con questa ordinanza del Comune di Arezzo, che ringrazio, la Polizia Locale potrà fare multe ai trasgressori, consentendo alle categorie più fragili di accederle al San Donato senza impedimenti. A parlare è il Direttore Generale dell'Asla Toscana Sud-Est, Antonio Durzo, all'indomani della pubblicazione dell'ordinanza comunale dal titolo Regolamentazione della Sosta nei parcheggi ubicati in Via Maestrini e Piazza Coradeschi a servizio del complesso ospedaliero. Si tratta di un problema al noso che l'azienda ha deciso adesso di arginare con l'aiuto del Comune di Arezzo. L'anello esterno del San Donato, infatti, seppur regolamentato negli accessi dalla presenza delle sbarre, si configura come area privata ad uso pubblico. In particolare, l'ordinanza prende in considerazione sia l'anello esterno, che prevede 200 posti auto, di cui 29 riservati ai veicoli che sono a servizio di persone disabili, 22 mezzi di soccorso e 8 pazienti in cura al reparto di oncologia, che l'area di fronte al pronto soccorso, dove i posti auto 19 sono riservati esclusivamente ai mezzi di soccorso e ai disabili. Invece succede troppo spesso che vi parcheggino anche mezzi non autorizzati. L'ordinanza è già in vigore.